ragazzi buon pomeriggio io sono dario sorgato ho 44 anni e all'età di 16 anni mi hanno diagnosticato una malattia che si chiama sindrome di usher che forse non avrete mai sentito nominare prende la retinite pigmentosa che invece magari è più nota è una forma per includere la persona e quindi rendergli possibile il movimento senza dover richiedere l'aiuto di qualcuno lo stesso il fatto che gli autobus di berlino si abbassino tutti quando arriva una persona in sedia a rotelle che deve entrare l'autista che gli fa abbassare la pedana una forma di dare indipendenza alle persone mi tengo talmente tanto a portare queste pillole di gocce di umanità proprio tra la gente che se c'è un'occasione come questa dove voi a vostra volta potrete portare e dispondere queste pillole di umanità allora avrà avuto un senso da ritrovarsi qui oggi grazie 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 Grazie.